ciao eccomi qui con un nuovo video e stavolta si tratta di riciclo creativo infatti vi farò vedere come dare una nuova vita ad un oggetto che solitamente cestiniamo appena il prodotto finisce si tratta del flacone di un deodorante rollon di vetro che diventerà un porta oggetti facilissimo da realizzare e che soprattutto si può creare con oggetti che ci ritroviamo facilmente in casa prima di tutto la cosa essenziale è lavare bene il flacone ed eliminare ogni traccia di residuo del prodotto dopodiché dobbiamo rimuovere la parte con la pallina che è facilmente eliminabile con l'aiuto di un cacciavite fatta questa operazione avremo così il flacone che diventerà appunto il nostro porta oggetti e che io ho interpretato in chiave shepisik utilizzerò una pietra dura di quelle per collane ma va benissimo anche una placchetta di legno di plastica o di sughero un merletto smalti per unghie che io ho scelto nelle tonalità di bianco e giallo perché farò una margherita colla a caldo filo di cotone stuzzicadenti e vi consiglio di tenere a portata di mano il solvente per unghie in modo tale da eliminare eventuali imperfezioni del disegno ed ora passiamo proprio al disegno in questo caso come ho anticipato fare una margherita quindi incomincio con lo smalto bianco a fare i petali dopo aver fatto un primo giro di petali ne farò degli altri aumentando però la dose di smalto in modo tale da aumentarne la densità facciamo completamente asciugare il disegno e nel frattempo creiamo un giocco con il filo di cotone e passiamo a fare la parte centrale con lo smalto giallo quando lo smalto del disegno sarà completamente asciutto incominciamo ad incollare il merletto alla base mettiamola con la caldo a piccoli tratti e su ogni tratto incolliamo il merletto aiutandoci con lo stuzzicadenti e proseguiamo così finché non otteniamo una vera e propria cornice fatta di merletto sempre con la colla a caldo facciamo un piccolo puntino ed incolliamo il fiocco ora è il momento di decorare il flacone mettiamo la colla a caldo nella parte centrale e subito applichiamo la decorazione fatta da noi avvolgiamo il filo di cotone alla parte superiore del nostro porta oggetti e facciamo un fiocco regoliamolo in base ai nostri gusti e tagliamo le estremità finali ed ecco qui il nostro porta oggetti che è rinato praticamente da un oggetto che era destinato ad essere buttato via non mi resta che sperare che vi piaccia e aspetto i vostri commenti come al solito e vi ringrazio tantissimo per la dolcezza che mi dimostrate sempre vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto ciao ciao